Gli abruzzesi sono mediamente più sovrappeso del resto degli italiani. Sono stati pubblicati i dati del 2021 dell'indagine multiscopo Aspetti della vita quotidiana curata dagli Istat e la fotografia che ne emerge non rappresenta una società particolarmente salutare. Un'abruzzese su due infatti ha problemi di peso. In particolare il 35,7% è considerato sovrappeso, mentre il 13,4% è obeso. La media nazionale delle persone con qualche chilo di troppo è del 46,2%, il numero riferito al solo abruzzo è tre punti percentuali superiore. È il frutto forse di una cattiva alimentazione che spesso è composta nella frenesia della quotidianità da cibi già pronti, ma importante a tale riguardo è anche l'attività fisica. Un'abruzzese su tre con più di tre anni di età non pratica nessuno sport, mentre un altro terzo della popolazione svolge solo un po' di moto. Gli sportivi sono il terzo restante degli abruzzesi. Tra loro il 23,5% pratica sport in modo continuativo, mentre l'11,8% lo fa saltuariamente. Numeri questi in linea con la media nazionale. Stessa cosa per i dati relativi ai vezzi. Bacco e tabacco sono tra i vizi che maggiormente ci concediamo. Quasi il 65% degli abruzzesi consuma alcol nel corso dell'anno. Si tratta di una donna su due e di quattro uomini su cinque. Il 16,5% della popolazione invece dichiara di concedersi almeno un bicchiere tutti i giorni. In particolare a farlo è un uomo su quattro e il 7,5% delle donne. E se un abruzzese su due beve moderatamente, il 14,6% manifesta almeno un comportamento di consumo a rischio. L'8% infatti fa un consumo abituale, cedentario, mentre il 7,5% tende ad abbuffarsi d'alcol. E il cosiddetto binge drinking, ovvero quando si assumono almeno 5 bevande alcoliche in un intervallo di tempo di 2-3 ore. Numeri simili a quelli della media nazionale anche per quanto riguarda il fumo. Oltre la metà degli abruzzesi, il 55,8%, non tocca neppure una sigaretta. Quasi uno su cinque, il 18,3%, si dichiara invece fumatore, mentre uno su quattro, il 24,3%, ha smesso. Tra i fumatori, il 23,5% non fuma più di 5 sigarette al giorno, il 36,9% non supera quota 10, mentre il 34% ne fuma più di 10 e il 3,4% più di 20. In media, ogni fumatore abruzzese si accende ogni giorno più di 11 sigarette.